ben tornati a vera mattina adesso vogliamo ripartire dalla storia di una famiglia per darvi l'opportunità di poter fare qualcosa per aiutare gli altri questo spazio lo abbiamo definito appunto con il titolo di natale solidale e sono davvero tantissime le opportunità che vi illustreremo tra poco intanto vado a salutare andrea sciarretta che insieme a mamma terè genitore della piccola noemi buongiorno bimba di guardia grele affetta da atrofia muscolare spinale sma 1 malattia neurodegenerativa assimilabile nel novelo di quelle rare per la quale non ci sono attualmente terapie così efficaci l'associazione progetto noemi ed è notizia insomma delle ultime ore è stata premiata al grangala della solidarietà ma insieme a papà andrea vogliamo intanto illustrarvi meglio che cos'è il progetto noemi e poi parlarvi di questo natale solidale vero andrea buongiorno a tutti voi grazie sempre per l'attenzione che ci dedicate assolutamente sì il progetto noemi grazie ai sostenitori ha avuto la possibilità che nonostante le restrizioni che ci sono state non si sia mai fermato quindi abbiamo cercato comunque di portare avanti la difesa delle fragilità nello specifico il progetto noemi si occupa dei bambini affetti da disabilità gravissima e malattie rare in questo periodo siamo presi con il natale solidale praticamente è possibile acquistare il panettone solidale progetto noemi con una piccola donazione e cercare di sostenere gli obiettivi che portiamo avanti notizia di poche ore fa è che abbiamo deciso di dedicare il ricavato del natale solidale per un'importante donazione che avverrà per il reparto di terapia subintenzia pediatrica in asri di pescara un reparto che sosteniamo dalla sua nascita dei propulsori per affinché ci fosse un riferimento regionale a favore delle disabilità gravi e grazie al momento natalizio cerchiamo di essere concreti quindi festeggiamo ci riuniamo insieme alle famiglie cerchiamo di essere positivi e propositivi ma in più siamo anche concreti perché interveniamo nelle realtà in cui molto spesso si investe sempre meno intanto in sovrimpressione mi rivolgo ai nostri telespettatori potete prendere nota di tutte le informazioni per richiedere appunto il panettone solidale in questo caso con ecco poi l'obiettivo che ha appena illustrato Andrea Andrea che cosa ci puoi dire della piccola noemi come sta insomma una piccola guerriera e anche una grande artista devo dire continua a disegnare assolutamente sì noemi cerca attraverso la sua forza che tendenzialmente è molto più elevata dalla nostra però cerca di attraverso il suo braccino di disegnare e dipinge dei quadri spettacolari potete comunque andarli a vedere sulle pagine social progetto noemi e sul sito progettonoemi.com è un periodo in cui siamo presi dalle preoccupazioni perché tutti quanti noi comunque vediamo che la realtà che stiamo vivendo continua a far sì che i nostri giorni siano a soggetti a restrizioni ma nonostante ciò ricordiamoci che ci sono comunque famiglie che sono abituate a mascherine gel ormai da tantissimi anni e vivono nel periodo invernale anche i lockdown per proteggere i propri bambini ora forse ce ne accorgiamo perché il problema è un po' di tutti ma in verità c'è chi ha combattuto sempre in silenzio in sordina e c'era sempre bisogno di un'attenzione particolare. Noemi attraverso la sua storia cerca di aiutare tutte le altre famiglie che in questo periodo hanno bisogno di aiuto in più noi come associazione siamo riusciti ad ottenere contributi economici a favore del del genitore caregiver che assiste il proprio caro è un contributo regionale che attraverso l'associazione siamo riusciti a far sì che il lavoro di cura fosse valorizzato. Però insomma c'è bisogno che le famiglie vengano e ricevano un sostegno congruo da parte dello Stato Andrea? Assolutamente sì perché soprattutto in questo periodo in cui diciamo si è chiuso un po' tutto a livello nazionale tutto ciò le richieste di aiuto si sono comunque tramutate all'interno del territorio quindi le associazioni che hanno fatto del volontariato una missione di vita sono state sobbarcate da richieste perché comunque esistono problemi ancora più veritieri di quello che c'era prima perché si è aumentato il carico assistenziale e di fatto non c'è una presa in carico ancora efficace per queste realtà l'assistenza domiciliare comunque deve essere formata adeguatamente nella maggior parte dei casi il genitore in particolare la mamma diventa infermiere, logopedista, medico però ha anche una vita la mamma e come il papà come tutta la famiglia. Permettimi di dire anche un lavoro che poi è necessario proprio per portare avanti la famiglia io ti domando come avete vissuto il periodo specie quello del lockdown il periodo del lockdown ovviamente l'abbiamo vissuto con grande paura perché il genitore caregiver che ha la fortuna di lavorare perché quando si ha a che fare con le disabita gravissime di questo tipo come Noemi che è ventilata meccanicamente non è in grado di mangiare da sola viene aspirata ogni dieci minuti quindi un genitore perde il lavoro non perché vuole ma perché è costretta perché deve assistere il papà se è fortunato riesce a mantenere il posto di lavoro perché molte volte ci siamo trovati di fronte anche dei licenziamenti ingiustificati quindi chi ha la fortuna di lavorare nel periodo del lockdown ha vissuto un'enorme paura perché non c'erano tutele a favore dell'assistente di cura quindi mettevamo a rischio i nostri cari perché dovevamo comunque avere il sostegno economico e lì è il sostegno economico sociale e sanitario quindi bisogna cercare di avere la consapevolezza che quando si vivono le fragilità non bisogna ricordarselo quando è ampio il problema bisogna essere sempre e comunque attenti ai bisogni dei più fragili questo perché non è perché tendenzialmente sono una classe svantaggiata anzi è completamente il contrario hanno una forza in più rispetto alla nostra riescono a ricordarci le priorità della vita ma soprattutto l'istituzione riesce a capire davvero il senso di essere comunità perché quando c'è un problema bisogna prendersene carico Andrea guarda permettimi di dire che durante questa pandemia tutti noi abbiamo fatto i conti con le nostre fragilità io direi insomma che da quel che è accaduto e che sta accadendo dobbiamo trarre qualche insegnamento non possiamo pensare di fare i conti con le criticità solo quando queste si abbattono sulle nostre vite ma dobbiamo vivere con un altro punto di vista, un'altra prospettiva guardarci intorno e fare tutti la nostra parte assolutamente sì, questo deve essere tramutato in ognuno di noi, nel singolo perché bisogna far sì che sia proprio un modus operandi di ognuno di noi e la disabilità non è solo l'assistenza, è anche le barriere architettoniche lì c'è bisogno soltanto di un'attenzione in più quando siamo stati premiati, come ben detto tu, al Gran Galata da Solidarietà che è stato un riconoscimento per le associazioni che si sono distinte per ciò che portano avanti vorrei far vedere anche la foto, dovremmo avere la foto del premio al merito eccolo qui, grazie alla nostra regia quello che ho fatto presente io, che sicuramente è un riconoscimento importante per noi perché noi davvero stiamo lavorando tantissimo in sordina e con rispetto a favore delle famiglie è stata un'occasione in cui si è premiata la volontà la volontà di cambiare le cose la volontà di, nonostante ci siano le difficoltà, di non girare le spalle ma la volontà di cambiare le cose anche quando sembra che tutto sia perduto è la volontà di esserci a fianco a chi ha una difficoltà in più della nostra quindi lì è soltanto ognuno di noi bisogna soltanto lavorare proprio sulla forza di volontà e allora mi rivolgo ai nostri telespettatori se anche voi avete la volontà di stare a fianco non solo alla famiglia Sciarretta ma a tutti i bambini meno fortunati che hanno bisogno in questo momento allora acquistate un panettone e fatelo scrivendo a info-progettonoemi.com o inviando un messaggio al numero whatsapp che vedete in sovrimpressione senza mai arrendersi grazie ad Andrea Sciarretta un bacio a Noemi e a tutta la vostra famiglia grazie davvero Andrea grazie a voi e tanti auguri a tutti voi della redazione e ai telespettatori grazie davvero allora un Natale di solidarietà, un Natale di carità e parliamo ancora di bambini perché vi presentiamo il progetto L'Armadio dei Piccoli e per farlo ci avvaliamo della presenza di una delle volontarie lei si chiama Leandra Mattioli buongiorno Leandra ciao, buongiorno grazie per essere qui con noi grazie a te, grazie a te allora il nome L'Armadio dei Piccoli già dice qualcosa che cosa, ecco, quali sono le vostre attività? come operate sul territorio della Riviera delle Palme? siamo a San Benedetto, Grotta al Mare, no? sì, L'Armadio dei Piccoli innanzitutto nasce ufficialmente nel 2005 l'esigenza era quello proprio di delle mamme e amiche che volevano aiutarsi come si è soliti fare aiutarsi quando uno non sta più bene le scarpe magari i vestiti vengono dismessi come si faceva una volta come si faceva una volta e proprio da questo incipit che è nato poi si è strutturato in un'associazione il nostro obiettivo è quello di poter aiutare delle famiglie bisognose i figli delle famiglie bisognose dai 0 ai 14 anni però ci tengo a sottolineare come l'elemento essenziale affinché l'Armadio possa esistere è il grande amore dei donatori perché noi viviamo di donazioni donazioni che sono pannolini, vestiti, scarpe, passeggini perché è proprio grazie a questa grande solidarietà che noi poi possiamo dare agli altri il secondo nostro obiettivo oltre alla raccolta di questi donatori è fare l'ascolto perché è così importante l'ascolto? perché per noi è importante sia valutare le famiglie perché devono dimostrare comunque da avere un'isee in base che sono sotto i 10.000 euro un'isee di povertà quindi comunque dobbiamo accertarci e poi vengono avviate tutte le pratiche perché è così importante l'ascolto? perché noi ci mettiamo in ascolto di queste famiglie delle loro problematiche delle loro esigenze e quando tu fai un atto d'amore non è soltanto l'Armadio dei Piccoli che fa l'atto d'amore l'atto d'amore è fatto da tutte le associazioni a me piace sempre pensare che siamo un puzzle l'Armadio dei Piccoli è un pezzo del puzzle perché ci sono famiglie che hanno bisogno di lavoro famiglie che hanno figli con problemi quindi anche noi ci rivolgiamo ad altre associazioni affinché ci possano aiutare quindi questo ci fa capire quando è importante la collaborazione Senti, dal vostro osservatorio questa pandemia quanti danni ha fatto? Allora, noi ad ora contiamo nella diocesi di San Benedetto e di Ascoli 420 famiglie che stanno aumentando sempre di più e non parliamo soltanto di famiglie stranierie parliamo anche di famiglie italiane famiglie residenti nel nostro comune 420 famiglie che hanno richiesto informazioni che hanno richiesto aiuto che hanno richiesto aiuto noi durante la pandemia io con le mie amiche che io dico sempre le volontarie come le mie amiche sono delle persone speciali che non si sono mai tirate indietro perché abbiamo anche avuto paura perché abbiamo anche agito fatto il porta a porta anche dei momenti in cui avevamo paura anche per noi stessi e per le nostre famiglie però la volontà e il grande amore nei confronti degli altri secondo me ripaga sempre di tutti i sacrifici che si possono fare di tutti magari gli ostacoli che a volte abbiamo incontrato anche noi ce ne sono Sicuramente la forza che vi spinge è quella che poi arriva dalla fede e quindi dall'insegnamento che potete trarre una grande fede una grande fede che non ti fa sentire mai solo ma soprattutto io lo dico sempre poi mi ci commuo sempre che il più grande regalo me l'hanno fatto i bambini a me in questo periodo così difficile dove tutti abbiamo avuto paura e tutti abbiamo fatto i conti con le incertezze con la classica domanda forse che abbiamo ripetuto ma finirà mai io penso che anche perché spiegarlo ai bambini non è semplice non è semplice non è semplice soprattutto quando le persone ti chiedono non giochi non ti chiedono scarpe ma ti chiedono il cibo cioè perché per le mamme quello che sono i pannolini che sono le pappe sono veramente costosi sono gente che sono trovati veramente in difficoltà gente dignitosa ma che è stato un periodo di crisi per tutti per molte famiglie ecco perché dico che noi non siamo noi speciali siamo tutti speciali ecco perché ci tengo a sottolineare come il grande cuore dell'armadio sono i donatori e sono le persone che con poco veramente possiamo regalare regalare una speranza e regaliamo diciamo felicità e noi associazioni unite ad altre associazioni possiamo andare sempre per il meglio perché con la Caritas Michele per tutti io ne cito qualcuna ma ne sono tantissimi perché anche noi quando abbiamo di fronte famiglie con determinati bisogni ci rivolgiamo anche ad altri vi abbiamo visto prima in quella foto con l'assessore Sanguigni sì ecco c'è stato qualche passo in avanti perché ricordo che avevate dei problemi logistici per la sede ricordi benissimo piccolina ecco io colgo proprio l'occasione per ringraziare la famiglia di Elisabetta Romani che si è fatta veramente carico di un nostro grande problema perché ottobre e fine settembre ottobre con delle piogge abbiamo avuto una rottura di tubi il nostro locale a San Benedetto è risultato inagibile quindi abbiamo dovuto sospendere la raccolta a San Metto del Tronto ma abbiamo continuato nel nostro punto di Ascoli grazie a questa famiglia a Elisabetta che io ringrazio tantissimo ci ha dato un nuovo punto di diciamo dove sorgerà il nuovo armadio dei piccoli che è situato vicino all'altro perché è in via Carducci 91 a San Metto del Tronto ora diciamo siamo un po' in work in progress come si suol dire perché stiamo sempre cercando aiuti e stiamo ecco sistemando un po' il locale ma stiamo tornando stiamo tornando e quindi ringrazio per quanto riguarda il comune sicuramente noi abbiamo instaurato questo rapporto di amicizia e di dialogo con questa nuova amministrazione in cui abbiamo fatto partecipi dei nostri problemi di ciò di cui avremo bisogno tramite l'assessore Sanguigni ci ha dato la settimana scorsa come visto dalla foto 150 biglietti da donare ai bambini della giostrina ottocentesca che noi daremo in mano ai bimbi insieme a quell'altra iniziativa che è il dono il regalo per i bambini noi abbiamo creato delle cartoline delle cartoline dove diciamo ogni bambino può fare può regalare dei giochi giochi anche usati giochi nuovi che non siano puzzle o peluche da donare a questi bambini noi abbiamo fatto così noi abbiamo creato di queste cartoline e abbiamo fatto sia bambino che bambina abbiamo scelto l'età che va da 3 ai 9 anni e abbiamo coinvolto la parrocchia della Marina tutti i bambini della parrocchia la parrocchia di Ascoli Villa Sant'Antonio ma abbiamo anche coinvolto tantissime tantissime amiche tantissime persone anzi colgo l'occasione se è possibile di invitare tutta la popolazione le famiglie di quelli che ci ascoltano se vogliono di poter fare questo regalo ai bambini il punto di raccolta sarà il giorno di Natale nella chiesa Madonna della Marina che è la cattedrale e se non possono quel giorno ci possono contattare che poi dopo Natale noi avremo cura di dare questi regali ai bambini insieme un'altra raccolta che abbiamo fatto grazie al patrocino del comune di San Medetto del Trondo è quella della raccolta solidale del materiale scolastico che viene fatta nelle ludoteche che sono sia quella di via Colla Meno che è a San Benedetto che è in via Gronchi che è a Porto d'Ascoli questo materiale scolastico che è veramente importante perché queste famiglie hanno bimbi che vanno a scuola e bimbi che hanno bisogno di gomme zaini righelli astucci che poi hanno dei costi insomma molto elevati messi insieme tutti gli oggetti molto elevati che nel mio piccolo essendo madre di una ragazzina sappiamo bene ogni mese di settembre quanto costa mandare un figlio a scuola tutti quanti noi abbiamo a casa doppi righelli doppie matite e magari ecco togliercene per poter donare questo è un grande gesto d'amore sicuramente sicuramente ci tengo anche a dire un'altra iniziativa ad opera della preside vita dell'ISC centro perché anche lei ha attuato questa grande macchina della solidarietà natalizia facendo una raccolta con le classi di materiali che sia pappe che intimo che poi ci verrà donata in seguito dopo le feste di Natale che noi avremo cura sempre di dare a queste famiglie abbiamo visto che questa raccolta c'era proprio un periodo da metà fine novembre fino a metà dicembre metà dicembre ecco ma se qualcuno volesse fare qualche spedizione lo può fare sicuramente qui ci seguono ad altre zone d'Italia se ci fosse un telespettatore particolarmente generoso io facendo una metafora voglio dire che il nostro armadio è aperto quindi è come un armadio aperto noi siamo sempre aperti accogliamo tutti e quindi possono fare queste donazioni alla nostra sede armadio di piccolo in via Carducci 91 siamo sempre a San Benedetto del Tronto che siamo ben felici di accogliere tutti siamo felici anche di accogliere le famiglie che vogliono venirci a a trovare siamo disposti ad accogliere tutti i dirigenti scolastici che vogliono mettersi in gioco in questa in queste iniziative anche perché poi nelle scuole si parla tanto di educazione civica e di mister cittadino beh noi siamo il jolly perché noi possiamo andare nelle scuole perché ci facciamo partecipi e se posso per ultimo ringraziare anche la parrocchia che ci ospita che è la cattedrale la marina e ringraziare Don Patrizio in primis secondo Armoglio e Don Luciano perché loro ci sostengono e ci aiutano veramente nelle nostre iniziative quando poi ne abbiamo bisogno ecco la cartolina io vorrei ricordare tra l'altro che è facilissimo insomma trovare l'armadio dei piccoli anche sui social c'è una pagina facebook sempre aggiornata dove ci sono tutte le informazioni ed è un modo anche quello per conoscervi meglio e contattarvi questo Natale purtroppo è ancora segnato dalla pandemia e tra l'altro siamo in una fase particolarmente dedicata delicata sul fronte dell'infanzia no? parte la vaccinazione per i bambini insomma voi veramente operate sul territorio in modo lodevole per i più piccoli che hanno pagato anche loro un prezzo piuttosto alto da diversi lockdown che si sono succeduti stando in casa non potendo andare a scuola non potendo giocare e pensiamo che ci sono anche bambini che non possono giocare perché magari non hanno nemmeno il giocattolo in questo caso quindi operate in modo davvero davvero lodevole ecco qualcos'altro da ricordare vogliamo salutare tutte le volontarie da Stefania tutte Stefania Elena Romina Francesca tutte e soprattutto tutte le mamme anche mie amiche che spesso ci vengono ad aiutare perché quando abbiamo diciamo ci vengono a portare dobbiamo fare la distribuzione dobbiamo comunque ecco sembrare piegare sistemare che non sembra però è un grande lavoro quindi ringrazio sempre tutte le persone che gentilmente in maniera gratuita ci vengono ad aiutare quanto tempo dedicate a queste attività allora io dico sempre che la macchina del volontariato non si ferma mai cioè è un cuore che ti batte continuamente perché tu non è un sacrificio perché tu vai in giro vedi una persona vedi magari un negozio che ha qualcosa o vedi una persona che sta dicendo un qualcosa e tu dici ecco questo lo voglio contattare questo mi può servire oppure se conosci qualche insegnante dici non è che magari ci potresti aiutare quindi quello che ti senti nel cuore non smette mai grazie a Leandra grazie a te mi permetto di dire insomma il Natale sta arrivando oltre ad acquistare i regali per i nostri cari pensiamo anche a fare qualcosa per gli altri che secondo me è il regalo più bello anzitutto per se stessi grazie grazie ancora Leandra Mattioli un saluto a tutta la squadra dell'armadio dei piccoli andate a cercarlo sul web sarà facilissimo avere informazioni grazie ancora ci fermiamo per una breve pausa e poi torniamo e parliamo invece del mondo del lavoro